In mezzo alla straccia. Perfetto. Tanto qua, vedi questo tocco? Quando sei vicino a Maretta, lo suonerai. Sì. E dopo, che suonare il tocco? Accetterai questo lato. Senti, dice no? Ho capito. Che ogni più signore non se la sente di fare la sfida. Ti vado a mettere questo lato. Precisamente, precisamente. Mi raccomando, eh. Non dire niente a nessuno. Altrimenti... Non ti dà... Ah, ecco, così mi piace. E poi ci si mette. Quando hai detto l'altro, poi mi vai da me. E io ti do le ventina lì, no? Altrimenti. Sì, sì, sì. Ma... Non sei sicuro? Sicurissimo. Oh, bene. E io ti do le ventina per la parisi. Dile papà che tutto va meraviglia. Dile, dai, dai, dai. E io ti do le ventina questo signore. E io? Ecco, ve lo faccio. Sì. Ma mi ha chiamato, però, eh. Non dite niente a nessuno. Non dite niente a nessuno. Non c'è niente da tenere. No. E non farò vencere il signore. Bene. E poi... E poi... Mi chissà che hai, eh? Eh... Eh... Come sono più conoscenze, i suoi signori, eh? Sì, sì. Sì, sì. Ambizione... Sì. Vai, vedi. Vai, vedi. Vai, vedi. Lasciami. Corri, dai, corri. E io guarda dove sei il giampato. Ecco, bravo, bravo. Bene, bene. Il mio avviamento. Trezza, beh. È una parola. Applausi. La gara sta per cominciare. Signor Cavalieri? Stai girandola. Cavalieri. Cavalieri! Stai girandola. Stai girandola. Stai a posto. Stai a porto. Stai a porto. Stai a porto. Stai a porto. E' un'unico già partito. Stai a porto. signori la visita principi erano ricordate i miei parti quando sarete vicino alla venta suonare forte il corpo ma quello rosso e così sarà richiamata la versione di tutti quando sarete vicino invece ma che giorni prego quando sarete vicino quando sarete vicino invece accendete l'altro e il colore del piparazzo che apparirà sarà quindi il figitore sarà il signor girandolo la faccia finita se sarà difficile se sarà rosso il figitore è accontato non stava dire certamente sarà verde certamente si rosso ah vincerò io certamente e io sento la vittoria qui certamente ma io sono un cazzone ma io sono figlio di mio nonno e sia di mio padre che io la vedremo io la vedremo e la vedremo e 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 ma 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 che immaginazione ma e 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 concorrenti attenti al razzo ora non deve star molto a comparire attenti al colore un metro metterà rosso un metro metterà rosso 10 mila sul verde 20 mila sul rosso signori un altro squillo attenti al razzo ecco ecco verde verde e rosso insieme signori la vittoria è di entrambi andiamo intorno ai campioni andiamo vittoria è di entrambi voi o dì io io voi qui voi qui non dovevate essere lassù a io io non sono io sono lassù a lei sembra io non sono io sono lassù è io che io sono io sono sono io io ho 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 Ah, a me vuoi? Ah, signor Tomo, signor Tavaliere, io vorrei sapere che cosa è successo, visto che il Tavaliere si trova qui, anche se dice che non c'è. Io, vorrei sapere, io ho mandato subrogato, ma chi avete mandato con la? Io non so come si chiama, ma non è che lei si sa sempre mettere in scatole a prendere una volta, eh? No, 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 ho incaricato io a accendere l'altro, bravo, 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 e io l'avevo incaricato di accendere l'altro, Lo hai comprato sulla porta del mani vero, scusate eh, non mi ha detto niente, bravo, 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 è ora di vittoria, Lasciatemi ripetere un attimo, per favore. Eh, ripetete la scelta. Tutti i raggi sono apparti contemporaneamente, va bene? Giusto. Questo, sentite, ma che avete, e strano, la vedo. Perfetto. Perfetto riguarda voi vitteggiati. Allora ci penso io, voi state facendo. Gino, andiamo un po' e sistemiamo un po' questa pagina, li ha? Io in una situazione come questa non mi chiedo mai trovato. Va bene, no, no. Io, lo sportivo, ormai siamo tutti e due, poi c'è tutto. Oh, ma c'è una confidenza, possiamo? Corso, chiamo. Ma voi non siete andato lassù? Perfora. Pafora? Io? No. Ma perché dipendenti? Perfora! No. Eh. Timore. 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 Che timore? Timore, va bene. E che te voi? Anche voi? Avete avuto timore? No. Io non ho avuto timore. Io ho avuto paura. No. Che è successo? Che hai, figliolo? Pianci sulle disgrazie del tuo Augusto genitore? Pianci sulle disgrazie del tuo Augusto genitore. I figlioli non si possono mai lasciare un minuto a parte. Assolto. Che ho detto? Pianci sulle disgrazie. Pianci sulle disgrazie. Figlio del genere. Te l'avevo detto io. Ma tanto, che ci vuole la medicina? Di forno qua. Medicina? Sì. Ce l'ho io. No. La medicina? No. Tutto. Olio di ricino. No. No. L'avevo comprato per modificare l'eroparo. Ma voi avete anche un'eroparo? No. Ancora l'eroparo non l'ho comprato. Però intanto ho comprato l'ore per modificare. Lei è un uomo prevedente. Prevedente. Non ha comprato l'eroparo e già compato l'ore. Prevedente. Eccolo. Il figlio è il mezzo. Vieni qua. Questa è la giusta posizione per il tuo truce comportamento. Dobbite. Ok, la dobbite. A te affido la lubrificazione del parcolo. Parcolo. Signore, per carità, dove ti salvò? E' successo il tempo, non ti stanno mai fatto. Non ci dorme mai. Ma lo scoprò con i villeggianti. Con i villeggianti, da? Via dove vado. Ma per me non cazzo. 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 Dove sono questi impostori? Ma i campori stanno a portaccio. Dove sono? Calma, ma il franzerello. Calma. Ma che calma? Ci sono pensi tanto di loro. Ma calma. Ma io la preferisco come me già detto qui. Non così agitare. Via. Sono qua. Mi ho tirandola. Mi ho il campo. Mi ho il cavaliere. Ecco. Oh. Ecco. Poniamo fine allo scherzo. Uno scherzo? Uno scherzo. Unito. Per me non cazzo. Per me non cazzo. Per me non cazzo. Uno scherzo. Ma calma maestro. Non per me non cazzo. Ma per fare il tempo all'interamento. Sì. Questo rientra nel programma dell'albergo. Ore di me stanza e buona cucina. Divertimenti e scherzo i nuovi tutti gli anni. Ne inventiamo i nuovi tutti gli anni. Per divertire i villeggiati. E con questo spero di fare ospiti. Che vi vogliate sostenere a lui o a due settimane. Due? Ma anche tre. Ma. Farei che per te non è. Tre. Questa è la spiegazione. Lo scrive. Eh sì. Rientra nel programma. Ma lo scherzo. Poi ci sono cascato. Anche bene altro. Ma sì. Siamo così. Facciamo pace. Magari. No, no, sì. Dai. Sì, bene, grazie. Bravo. sentite, signore, che stasera sta diregno da fare una comunicazione importante stasera sarà servito un magnifico pranzo e la direzione offrirà notate bene, offrirà questa spese una spese un'anze per tutti ma bene, bene questa non è questa è una bugia bella e buona signore ed ora rampetta da bambino musica n'è questo bella rosso bella per me bella sudo bella Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.